come alla fine anticipato proprio nella giornata di ieri l'altro ieri al massimo ecco di nuovo qui e fate voi pensere te cazzo ma siete vestiti e proprio a che stessi identica capigliatura si perché sarà un video l'altro è no perché per noi tra un video e l'altro sono passati letteralmente non più di 30 secondi per voi sulle 24 48 ore ma è un altro paio di maniche perché se prima abbiamo parlato del demo gorgonico anche mi sento di dire leo ortis e adesso si parla di juventus perché mi se siamo qui esattamente come l'altra volta e perché questa sosta delle nazionali ce la siamo levata dalle palle sì sì e anche io da tifoso neutrale anche per me è stata dura perché nel frattempo lavoro la partita la guardo recupero quello che non ho visto però però per te che cos'è che è stata dura che cos'è che no addio non ha non ai livelli del tifoso però però a noi ad anno c'è no no cioè guardate la tua bella è divertente però tre partite tra tra l'altro qui infatti l'altro qualche giorno fa ho incontrato una mia amica per un aperitivo che durante il periodo noi realtà non sosta però a ridosso quasi era andata a fare il cammino di santiago perché va bene va bene va bene e infatti mi diceva che i ristoranti così bar quelli durante il cammino facevano vedere la serie c spagnola è meraviglioso tra l'altro anche interessante per carità però guarda tre partite in un weekend della c spagnola bello però se diciamo che io faccio fatica volte a guardare la juventus next gen non osi immaginare partite casuali della serie c ma questi sono altri discorsi mi ha salvato il mio amico nonché mio ex professore ai corsi di allenatori qui in spagna david tenorio neo allenatore dell'under 18 della nazionale spagnola ma ha salvato lui perché con qualche chicca con qualche discorso dicendomi vabbè lasciamo stare robe di lavoro per quanto riguarda l'under 18 spagnola ma intrattenuto con aneddoti e situazioni attuali però altrimenti altrimenti è dura e per noi è dura anche leggere quella che è la lista infortunati per dire perché infatti evi sinceramente a me sarebbe piaciuto partire andando ad elencare quelli che erano secondo te gli undici giocatori che avrebbero giocato di più ma purtroppo in virtù di quello che è l'elenco di guerra che si è creato soprattutto nelle ultime due settimane sinceramente direi di evitare perché sarebbe troppo sinceramente verrebbero fuori pianti sì 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 anche perché trovare i dieci più forti che hai giocato lele in questo momento è dura è dura però però qualche spunto comunque è venuto fuori no non so se ne vogliamo parlare ma il discorso di fagioli eventualmente adattato al ruolo di trequartista gli aggiustamenti comunque poi dal punto di vista tattico occorrono e qualche spunto lo offrono no quello assolutamente c'è che poi ad onor del vero io direi intanto di partire con te su come ti è sembrata a tutti gli effetti la juventus in quelle tre settimane di fatto da quando ci eravamo sentiti a juventus cagliari perché comunque per quanto magari i risultati bisogna dirlo siano stati più o meno sulla falsa riga di quanto visto prima comunque a livello di mentalità a livello di gioco a livello di interpreti e della loro funzionalità secondo me nell'ultimo mese tutto sommato si sono viste anche delle cose abbastanza interessanti e penso si possa parlare comunque nonostante tutto di una juventus che non è che magari fa due passi in avanti tra indietro due in avanti ma che comunque mi sembra un continuo e costante processo di crescita che magari purtroppo alle volte passa anche in risultati non proprio bellissimi come quelli di empoli e soprattutto cagliari però sì sì esatto è un processo di crescita che si è notato è come tutti i processi di crescita ci sono dei momenti di pausa infatti è una salita così poi c'è la pianura poi la salita l'importante è non essere così altalenante altrimenti tipo il milan secondo me ad esempio il milan è più altalenante perché vedi che ottiene il risultato offre una prestazione interessante secondo me il milan gioca in verticale dice ok sta risolvendo i problemi poi la partita dopo vedi che ha gli stessi problemi dietro traballa non è il caso della juve che secondo me migliora poi ovviamente c'è la partita d'assestamento dove magari c'è anche l'episodio sfortunato dove vlaovic sbaglia il gol insomma a portiere praticamente battuto c'è l'episodio contro e non ottiene il risultato la crescita secondo secondo me è leggermente più lenta del previsto io più lenta addirittura leggermente quando è stato annunciato tiago motta l'ho detto in tempi non sospetti proprio forse per il fatto di non tifare io ho detto vedo forse troppo entusiasmo perché secondo me la buona riuscita dell'esperienza tiago motta alla juve non è scontata perché in molti ma anche ci sta il tifoso deve essere entusiasta in molti ok calcio champagne arriveranno i risultati ci divertiremo vinceremo il divertimento sicuramente è salito di livello però la juve punta al titolo ecco mi aspettavo delle difficoltà iniziali che ci sono state nonostante delle buone prestazioni mi aspettavo però di arrivare a fine settembre con qualche certezza in più in casa juve occhio non voglio dire che la juve non ha certezze sta sta sbagliando sta giocando male sta facendo male no però alcuni problemi tipo la mancanza di fluidità dalla tre quarti in su è un tipo di problema che la juve si sta trascinando lo sta migliorando quindi bene benissimo però secondo me con più lentezza rispetto a quello che quantomeno io mi potessi aspettare da dietro a juve costruisce meglio rispetto a quanto fatto all'inizio stagione c'è più varietà perché non ricordo in quale partita contro la roma credo c'è proprio visto che se blocchi la juve nella zona centrale del campo quando prova ad iniziare l'azione da dietro con gli difensori arriva un po di panico però variando cercando anche le zone esterne la juve questo questo problema l'ha risolto l'ha risolto pian piano e quindi benissimo da quel punto di vista ma per quanto riguarda l'ultima tre quarti io lì qualcosina in più dal punto di vista del miglioramento mi sarei aspettato per ora c'è stata la sosta che comunque ha interrotto questo processo data la mancanza di prestazioni e di partite ovviamente vediamo se dopo la sosta si riesce a vedere qualche cosa in più qualche miglioramento in più però tu da tifoso per esempio come l'hai come l'hai vissuto sto sto periodo io sono molto semplicemente contento dei passi in avanti che vedo ovviamente io poi da tifoso mi devo basare no appunto anche su quello che è il risultato è tutta se penso a quelli juventus cagliari non ti posso negare che ho molto i maroni girati e secondo me purtroppo più che altro quell'infortunio di bremer fa da sliding door perché comunque a livello difensivo prima potevi gestire il tutto in una maniera differente nel momento in cui si può dire che avrai meno per tutta la stagione quello che è a mani basse il miglior difensore della serie a molte cose cambiano poi per fortuna da quando c'eravamo visti abbiamo avuto la possibilità di scoprire a tutti gli effetti pierino calulu o più che scoprire vedere che effettivamente se c'è dal punto di vista fisico sotto il profilo tecnico e di calciatore non c'è niente da dire anzi e quindi per me molto passa anche da lì poi concordo sull'ultima tre quarti ed è un tra virgolette un problema evidente perché se guardiamo la champions è vero che hai fatto sei gol in due partite quindi però se guardi il campionato a volte io anche proprio sempre la sensazione che se non riesci a sbloccarla poi è tosta poi contro il cagliari l'hai fatto hai avuto molte occasioni e lì non è che poi non è più creato lì proprio ti sei divorato tante occasioni tra primo e secondo tempo che comunque continuo ad essere a meno tre dal primo posto non è che sei a meno otto che già dici minchia devo già subito rincorrere e anche pesantemente quindi nulla di invalicabile anzi certo è che se guardo il calendario e comunque vedo che tutto sommato non è neanche un discorso di prossime due in campionato ma proprio un discorso di prossime quattro secondo me e la quinta mi pare sarà il toro tipo comunque hai lazio inter a san siro parma in casa e udinese a udine quindi comunque fino alla prossima sosta ma anche dopo dato che la prima dopo la sosta di novembre sarà juve milan o milan juve mi ricordo adesso bene adesso te purtroppo sempre in virtù di quelli che sono stati quei passi falsi non dico che non ne puoi più cannare una perché magari puoi però se lo fai rischi di essere poi veramente nella situazione di dover rincorrere e a maggior ragione adesso lazio e inter saranno due banchi di prova non proprio dei più banali anzi certo certo ma tu a tifoso accetteresti questa rincorsa se c'è il primo anno di tiago motta vabbè ci sta gliela faccio passare beh io guarda ti dico la verità io sono dell'idea che soprattutto in questa stagione bisogna porre delle basi per avere proprio zero alibi totali nella stagione 2025-2026 se arriva qualcuno e ti dice sì però con sarri non è stato fatto con piro neanche allora secondo me con sarri i motivi non erano di campo erano extra e bene o male in ogni intervista dei giocatori di quella juventus te lo dicono te lo fanno capire posto che so anche proprio qualche retroscena io di mio ma è un altro paio di maniche e pirlo ci sta io guarda ti dico secondo me agnelli aveva aspettative differenti per quanto riguarda sia la gestione sarri che la gestione pirlo è innegabile la sua amicizia con allegri che in tutto questo era rimasto a tutti gli effetti svincolato durante la stagione di di pirlo mentre invece prima nonostante ci fosse sarri continuavi a pagarlo aveva captato l'idea di poterlo riportare fatto con un contratto folle di quattro anni per più di 7 milioni a stagione ma quello è un altro discorso e quindi secondo me quell'ultima gestione in generale tra dirigenza e presidenza è stato un pochino così ecco in generale per quanto sia effettivamente vero che soprattutto a pirlo che letteralmente al primo anno di allenatore e neanche da allenatore della juventus di allenatore punto l'hai messo sulla panchina della juventus nella stagione post pandemia dove ogni due per tre magari ti ritrovavi quattro cinque giocatori indisponibili non per problemi fisici ma per positività varie e nonostante tutto due titoli li porta a casa a questo punto prova ti posso dare ragione ma secondo me quella dinamica è passata oltre che passata per fortuna anche molto legata ad aspetti più personali che professionali probabilmente sì sì ci sta ci sta ci sta vediamo vediamo perché ora ora tocca vedere dal punto di vista tattico quali saranno le soluzioni lì mi incuriosisce lì mi incuriosisce perché è certo con sei sao non ne sono squalificato juvelazio ah giusto però fisicamente sta bene no sì sì mi pare abbia giocato anche la seconda partita del portogallo sì sì poi sai emi da qui a martedì che ci sarà juventus stoccarda mai dire mai perché tanto per lui la prossima partita è quella però al momento è e tra noi vediamo vediamo incuriosisce a me sto fagioli trequartista perché secondo me quindi tu vedi lui e non douglas luiz domanda al bruciapelo che ti faccio soprattutto perché douglas luiz è rimasto per l'ennesima volta due settimane alla continassa bella domanda bella domanda a me fagioli sta piacendo è vero che sì 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 io ci butto in mezzo anche proprio il dis perché contro come verona l'abbiamo visto lì però il dis lo no lo può fare lo può fare però il dis lo vedo bene quando da esterno si accentra quando ha più spazio il problema del trequartista centrale il traffico è una zona trafficata da là devi essere bravo a giocare sul corto pochi tocchi cercare il passaggio imprevedibile cosa che il dis ha ma secondo me se prestato in massa va ancora un po' in difficoltà fagioli è un po' più rapido nella giocata un po' più semplice e quella semplicità secondo me in quel ruolo aiuta douglas luiz semplice non è però però a me a me piace a me piace e mi hai mi hai spazzicato un po' è più che altro speriamo anche sia passata quella sorta di nuvola di fantotti che tra l'ipsia juve cagliari che tra l'altro contro il cagliari è rientrato anche veramente tanto bene però poi purtroppo fai quella cagata che ascema quella di vlaovic ti vanno a costare due punti poi prima di una sosta che è tosta è rivangarci su dopo tra l'altro tra l'altro sempre prima della sosta la juve fa mezzo passo falso no vado a memoria prima dell'altra era juve roma se lo vuoi considerare passo falso più che altro subito dopo empoli juve però secondo me sarà ci sarà l'opportunità per dimostrare da parte di giocatori utilizzati meno come il brasiliano seguirò le partite con curiosità forse la juve la squadra che mi sta incuriosendo di più insieme al napoli al milan ma per i motivi sbagliati quindi quindi sarò curioso perché dal punto di vista d'attivo ora occorre lavorare e ho un'altra domanda e poi secondo me dato che siamo proprio a ridosso di juve lazio ci può stare a bozzare quella che secondo te sarà la formazione o che tu schiereresti in campo però ti voglio fare questa domanda che secondo me non è così tanto banale in virtù del fatto che non c'è il vice vlaovic e potenzialmente l'unico a disposizione può essere uea come visto anche contro il napoli non ci sono né con sensato né nico gonzales ma tu la destra metteresti uea dal primo minuto o andrea cambiaso io cambiaso e anche io con una prima punta però non ho mai con la vic però almeno uea poi te lo potresti giostrare sia come numero 9 che come ala a partite in corso in base anche a quelle che sono le esigenze perché comunque un ragazzo che si è dimostrato molto fragile dal punto di vista fisico ributtarlo subito dentro dove comunque avrà a che fare con tavare si giusto giusto no anche io di prima chitto ti avrei detto cambiaso sempre piaciuto gli darei fiducia poi è un jolly dal punto di vista tattico veramente un giorno e amoroso avercene di cambiarsi in squadra il giocatore che vorrebbero tutti quindi ti dico lui di con lui la formazione però è che a me sfugge proprio l'elenco del degli infortunati perché è una cosa esagerata allora io ti dico indisponibili perché per forza di cose ci butto dentro anche consensato si nasi e vabbè bremer mckennie copmainers consensato nico gonzalez milic di gregorio anche se è il nome che forse sbaglio di più perché mi piace tiago motta con la gestione dei portieri mi piace però guarda ti dico considerando che in champions league per forza di cose giocherà per in direi di gregorio di gregorio per forza a destra poi c'è anche la situazione danilo che è particolare no allora ho letto che in brasile l'hanno riempito di critiche sì poi mi sa che tornerà tra giovedì e venerdì includendo il fuso orario nelle ultime partite ha sempre giocato savona mi stupirebbe enormemente qualora in un juve lazio giocasse danilo no sì sì avrei detto savona però pensando appunto alle alternative mi è tornata in mente sta situazione danilo che è particolare danilo io lo dico sempre danilo solo in italia è stato non criticato comunque loggiato è in spagna un meme in inghilterra non lo so però in sud america pura non è che comunque comunque savona eh i due centrali gatti e lui è l'altro caluno è per forza è a sinistra però è cabal eh però cabal a me vabbè però anche lui lui probabilmente è se opti per mettere cambiaso ala esatto no per forza di cose lui è due medianacci turam c'è sì turam c'è e ora qui perché poi se poi cambia il ruolo del trequartista no io faccio e secondo me tocca pensare anche molto in base a quello che è l'avversario come la ragioni c'è vedendo quello che il centrocampo della lazio chi è tutti gli effetti ti serve di più perché è la possibilità di pescare su diverse caratteristiche però ti dico secondo me locatelli non lo toglie mai avrebbe senso poi non so è se turam locatelli però per me locatelli c'è locatelli con secondo te è io dico turam locatelli per me che da gas luisa a me piace faccio sempre fatica a lasciarlo fuori però realistica lo puoi lo puoi utilizzare anche no metto fagioli la ok secondo me secondo me la lazio va allargata va allargata e ci devi giocare non in velocità non è che giochi con tutto il rispetto contro il real material diciamo però la devi allargare e devi essere veloce quindi fagioli che ti gioca a due tocchi che è anche imprevedibile lo metterei lì a sinistra il lizzo lo tengo a sinistra però proprio per il discorso di allargare le maglie parte esterno la difesa si deve allargare per forza di cose tra virgolette senza scendere troppo nei dettagli poi si accentra favorisci gli inserimenti quindi lo terrei largo cambia su a destra e prima punta abbiamo detto che bravo che ci c'è no fortuna perché se non c'è neanche lui è disastro vediamo per questo sono curioso questa norella juve per per vedere gli incastri e capire poi quale rende meglio anche se con tutti gli impegni non è che puoi trovare proprio un undici tipo anche perché poi immagino che in parte si ragionerà anche in ottica juve stoccarda ma poi soprattutto inter juventus vedendo che comunque in champions league e dalla tua sei punti su sei una partita in casa dove magari qualche piccolo ritocco te lo puoi permettere posto che il piccolo ritocco è forzato da tutti i titolari che non hai a disposizione a causa infortuni ma questo è un altro paio di maniche sì 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 no no quindi quindi un po per gusto personale un po per esigenze il mio 11 è quello vediamo vediamo spunti secondo me ce ne saranno e fatti fateci sapere per la prossima sosta delle razionali il prossimo video che faremo assieme tutti i vari temi che dovremmo toccare fateceli sapere qui sotto con un commento così magari quando sarà il momento di registrare andrò a ripescare qualche commentino che è interessante su quella che è la situazione attuale riproponendola poi dopo tutte queste partite e dopo che il calendario sia di champions league che soprattutto di campionato non dico darà le prime sentenze perché non si parla e non si parlerà di sentenze perché tanto sarà comunque fine novembre però che già molto probabilmente inizierà a dire infatti tu cosa mi aspetti per dire adesso è la juventus che mi aspettavo in questo momento dato che prima hai detto che al momento un pochino più indietro per dire ok adesso ci siamo che cosa t'aspetti per novembre per il 22 novembre mi pare sarà juventus milan quando allora quando la squadra esce da dietro come quando inizia l'azione varietà non è che se ti bloccano la zona mediana non si farà nulla ma quel problema come dicevo lo sta lo ha già migliorato leggermente la juventus ma soprattutto quando arrivi a centrocampo la fluidità alternative che poi alla fine alternativo sono due o vai centrale o vai esterno però al momento giusto al momento giusto non è che provi a cercare questi corridoi e se non li trovi va in crisi quindi la fluidità giocatori che ecco giocatori che riescono a prendere la decisione giusta al momento giusto dalla tre quarti in su poi si sbaglia si pareggia si può anche perdere però concettualmente quello a me piacerebbe vedere proprio dal punto di vista tattico ecco e soprattutto parlando di singoli un douglas inamovibile a novembre non è che non è che mio zio però a me ti si sono ti si sono brillati gli occhi hai cambiato espressione va bene così a me piace a me piace però se lo deve meritare se non entra nel meccanismo è giusto che rimanga fuori secondo me entra ma poi i brasiliani in piano via questo cioè va dato tempo ai brasiliani a meno che non ecco qui quindi abbiamo completamente buttato nel cesso il video sugli ortis che già deve arrivare a gennaio dagli pure tempo infatti mi sono espresso non mi ripeterò non mi ripeterò su il valletto del tavoliere ragazzi sempre garanzia di totale qualità il valletto del nostro cuore totale qualità si va no no è totale e e dopo questa epopea perché per lui sono veramente passati 45 minuti di registrazione tra quel video e questo qui e mi per sto mese abbia andato direi ho fatto due figli molto meno pensa un po' a te poco ma sicuro tende in dieci minuti totali è un fenomeno dai lasciamo stare la compagna e invece ci ha messo decisamente molto di più il confronto ha fatto il viaggio a lipsi in macchina ecco diciamo a dir poco a dir poco ma molto poco e niente ragazzuoli al di là di tutto il nostro vario cazzeggio perché al di là di quelli che sono gli spunti è giusto mettere anche questi momenti che altrimenti fare robe sole ed esclusivamente seriose anche una bella pugnetta diciamo e quindi nulla io mi auguro che anche l'altro video ma probabilmente soprattutto questo in compagnia con emi vi sia piaciuto che vi abbia dato anche proprio spunti di riflessione a voi e infatti qualora così fosse fatecelo pur sapere qui sotto con un commento come sempre vi rimando al canale di emi e al sito di emi se magari siete interessati ad approfondire i discorsi legati ai corsi che propone che sono comunque di assoluto livello e che soprattutto danno anche una certificazione da un punto di vista professionale oltre che una conoscenza calcistica e una visione differente delle partite anche se quella cacciaresca rimane pur sempre la mia preferita se posso essere onesto ci facciamo lo spin off mica un problema lo spin off corsi pazzi lo chiamiamo presento io presenti tu ci sta ci sta non vedo l'ora e niente ragazzuoli adesso per fortuna dopo che abbiamo parlato noi tocca far parlare il campo finalmente finalmente finalmente